eccola per l'ennesima volta e ritornata dopo essere sparita sì, alcuni di voi mi hanno chiesto che fine ho fatto e soprattutto magari chi mi conosce anche di persona e sto bene, tutto ok, l'altra volta sono sparita per diciamo cose importanti se non lo sapete, se non sapete di cosa sto parlando vi lascio poi magari il link giù nell'info box per andare a vedere i video e sono risparita perché mi ero ripromessa di fare i video ma la vita e le varie vicissitudini lavorative mio figlio che praticamente da quando mi ero abbandonato aveva meno di un anno adesso che ne fa due praticamente è stato un impegno costante tutti i santi giorni da non poter praticamente permettermi di prendere la proprio camera in mano e tra l'altro anche la voglia un po' mi era passata, dico la verità e più che altro le idee mi erano diciamo proprio sparite adesso spero, visto che sto intraprendendo insomma dei lavori nuovi, dei progetti nuovi poi vedo che il mio canale nasce praticamente dal punto di vista creativo poi si è trasformato negli anni e ha seguito un po' me diciamo nei cambiamenti sto cercando di ritagliarmi un pochino ai miei spazi di nuovo dopo due anni di Francesco e niente, ne approfitto appunto perché domani è il suo compleanno e vi porto con me in una specie di vlog creativo perché vi farò vedere un po' quello che sto combinando perché lì alle mie spalle ho ormai da un anno la mia credit card bellissima e quindi se non sapete di che sto parlando è un plot da taglio e quindi diciamo che in quest'anno ho sviluppato vari progetti nuovi e li sto anche mettendo in pratica appunto con i vari compleanni vi porto quindi con me e vi faccio vedere un po' cosa sto combinando e quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora eccoci qui con le mie cassettine rigolosamente fatte a mano con le a bassa lingua Le ho riempite di cioccolate kinder di qui e poi di qua abbiamo fatto le altre, cioè ho fatto con praticamente il nome, la barrette personalizzate con scritto due anni Di qui invece abbiamo la torta di marshmallow, vabbè anche dietro con tutto il casino, sempre con Bing Il tema è Bing se non l'avete capito? Eccola qua con tutti i personaggi di Bing, di qua sto terminando queste che praticamente sono delle carote con sempre personalizzato, ho scritto Francesco Dentro per i bimbi ci ho messo già i marshmallow e li ho chiusi, ve li faccio vedere dopo, questi invece sono per i più grandi celli, insomma per chi vuole alla fine della festa, venceranno poi qui dentro le caramelle e se li porteranno a casa Eccoci qui dal punto di vista invece culinario, oltre alla torta che ho ordinato al bar Sto facendo dei muffin, al cioccolato e alle gocce di cioccolato precisamente, sono in cottura e ho già fatto gli altri che stanno qui Eccoli, questi sono tutti al cioccolato con il cuore di Nutella, buonissimi, già ne ho taggiato uno, è stupendo Ok quindi niente, questo video finisce qui, alle mie spalle ho ancora un po' di lavoro da fare per finire il tema, i gadget per il comprensione Io vi mando un grosso bacio, domani vi faccio qualche ripresa durante il compleanno, spero di riuscire a farcela E niente, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video Speriamo ovviamente Ciao 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 Ciao